Il PD fa il punto della situazione per quanto riguarda l'idea di secondo livello, bando ai campanilismi avete parlato di quelle che sono le criticità ribadendo di essere favorevoli al project financing e a dunque un nuovo ospedale a Chiedi. Noi siamo favorevoli perché è stata sempre la nostra proposta, però quello che chiediamo dopo sei mesi è che ci sia chiarezza dall'altra parte, cioè da parte di chi oggi governa, che allora era contrario a questo tipo di proposta, semplicemente ce ne deve dare un'altra perché non possiamo lasciare l'ospedale così come sta, senza parcheggi, con i cittadini, le famiglie e gli utenti che sono gravati dalle difficoltà della struttura e con mezzo ospedale sostanzialmente chiuso. Penso che sia un passaggio determinante quello di dirci con chiarezza cosa si intende fare rispetto alla struttura sanitaria a Chiedi. Lei ha parlato anche del problema delle nomine di alcuni primari? Beh sì, vogliamo capire perché da mesi e mesi scendono le prestazioni chirurgiche e non si fanno le nomine dei nuovi primari. La domanda è, non vorremmo, anzi non vogliamo e quindi chiediamo, non è mica merce di scambio elettorale anche quella, pensiamo di no, però per avere chiarezza anche su questo punto chiediamo un'immediata procedura che avviva la nomina del primario nuovo. Rivolgete alla Regione ma anche alla Asle? Assolutamente sì, però Asle che è afflitta dalla carenza della governance da mesi e mesi e mesi. Quando all'ultimo scorcio della precedente legislatura noi proponavamo una sorta di proroga ponte per arrivare poi con il nuovo governo regionale anche alla nuova identificazione della governance, ci fu detto andiamo in procura se lo fate. Però la risposta non può essere che dopo mesi e mesi sia in assenza del direttore generale a Chiedi e all'Aquila. Penso che sia un grave errore. Grazie. Grazie. Grazie.